bene ragazzi nuovo acquisto da decathlon questa bellissima torcia al prezzo di 15 euro e 99 ottimo prima io ho questa che è una multi uso più piccoletta meno potente però un multi uso vedete ha la luce fissa bianca poi lampeggiante poi diventa rossa per usarla al posteriore e rosso lampeggiante invece questa è soltanto soltanto bianca quel quindi anteriore vedete una funzione poi un'unica funzione si un'unica funzione però molto 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 più potente ovviamente la batteria vedete le caratteristiche 1300 metri di visibilità cioè in poche parole le macchine vi vedono a 1300 metri di distanza mentre 30 metri sono la luce che vediamo noi a terra quindi un'illuminazione di 30 metri ottimo calcolando che questa io l'ho provata è ottima le macchine mi vedono però a terra illumina veramente poco quindi questa è molto potente dura due ore mentre questa dura sei ore ovviamente più piccola la batteria dura di più però per adesso due ore per gli allenamenti invernali mi basta andiamola ad aprire e andiamo a vedere i particolari eccola qua qui ovviamente c'è il cavetto interno usb per andarla a ricaricare ecco qua dove si attacca quindi diciamo un'unica funzione quindi soltanto una luce molto molto potente andiamo a vederla a confronto di questo modello più vecchio andiamola a vedere proprio al buio come funziona ecco ragazzi è stanza buia questo è il modello quello più vecchio vedete che bella luce che fa ovviamente c'è adesso accesa anche la luce per del telefonino che sto facendo la ripresa comunque confrontatela con questa qui a terra questa è quella più piccola il modello vecchio che io avevo ora andiamo a provare quella nuova prendiamo questa nuova eccola qua vediamo che illuminazione ragazzi potentissima guardate quanto è potente mamma mia che bella differenza vedete a terra io con la bici quindi la illumino a terra e guardate le macchine che potenza sembra proprio la luce della macchina facciamo un po il confronto qua a terra mettiamo la una questa qui nuova e qua mettiamo questa vedere questa qui vecchia guardate che differenza di luce già così si nota si nota la differenza poi andiamo se riesco a farvi una ripresa per vedere bene la distanza ecco qua più o meno questa e più o meno vediamo questa qui nuova è molto più molto più ampia e molto più grande beh che dire ragazzi questa questa è una vera luce una vera luce costerà molto di più perché questa mi sembra che costava sulle forse la metà però vale la metà vediamo un po avanti la luce che fa se si capisce questa è quella vecchia più fiacca e questa è quella nuova è molto più potente vedere molto più potente vediamo vediamo in aria come illumina questa è quella più potente nuova vediamo in aria è molto più fiacca è molto più fiacca vedete questa è quella vecchia più piccoletta quindi abbiamo detto dura di più però è molto molto fiacca questa di buono c'è che al sistema lampeggiante quella più piccola quindi questa quindi la terrò fissa lampeggiante così con la sul manubrio della bici per quando per farmi vedere dalle macchine mentre questa l'accenderò proprio quando diventa veramente buio perché guardate che bella luce ampia ragazzi se siete arrivati fino a cui ragazzi iscrivetevi al canale pollice in su like non ve lo dimenticate mai votate il video e quindi ragazzi facciamo i complimenti a decadron che ci dà questi ottimi prodotti questo viene attaccato sul manubrio in questa maniera viene applicato questo è fatto di un materiale elastico che vedete è molto rimane molto attaccato al manubrio però prende qualsiasi forma dove noi l'attacchiamo pollice in su ragazzi sempre